Buonasera a tutti che riscoltatori meteo, bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdere nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a fare la tendenza per i prossimi 15 giorni. Vi invito a prendere tutto quello che dirò con le pinze perché come abbiamo detto è una tendenza. A partire dalla giornata comunque del 15 un promontore di alta pressione di origine nordafricana dovrebbe conquistare mezzo Europa portando temperature nettamente sopra la media stagionale. Attenzione perché stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli già da qualche giorno prevedono la lortura del vortice polare che comunque è rimasto per molto tempo molto compatto. Come possiamo vedere un promontore di alta pressione di origine atlantica delle Azzorri si andrà a posizionare tra la Groenlandia e la Scandinavia. Lasciando i due lobby, questo è il lobo canadesi che rimarrà molto più compatto mentre questo sarà il lobo siberiano. A questo punto si andrà a creare una linguagera che potrebbe investire il nostro paese richiamato da un minimo di pressionare informazioni proprio sull'Italia, come possiamo vedere da queste immagini. Tutto questo avrebbe a partire dalla giornata del 17 di febbraio, però come abbiamo già detto è ancora molto presto per saperlo, quindi vi invitiamo ad iscrivervi al canale e a te la campanellina. Comunque come possiamo vedere per ora è ancora la percentuale ancora molto bassa. Comunque i modelli sono ancora molto incerti ma stando agli ultimi aggiornamenti queste opzioni sono le più attendibili. Cioè che a partire dal 15 di febbraio, 15, 16 e 17 di febbraio inizia ad assare il promontore di alta pressione sulla nostra penisola. Però che durerà veramente molto poco, circa due giorni. Poi attenzione perché il volgicolare a questo punto, come abbiamo detto, si dovrebbe mettere strale strette attaccato su più fronti da una forte e alta pressione, a questo punto non potrebbe far altro che limitarsi a rompersi. Questa immagine potrebbe portare il Buran ma è solamente un'ipotesi ancora molto remota. Quindi facendo un piccolo riassunto, promontori di alta pressione dopo il 15 e verso il 17 qualcosa potrebbe cambiare a livello del vortice polare. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo ancora a iscrivervi al canale e attivare la campanellina.